Due volte sul podio nel singolo qui al Memorial d'Aloia, il finanziere Domenico Montrone che abbiamo il piacere di avere qui con noi, lo scorso anno campione mondiale costal, quest'anno hai ripreso alla grande vincendo il primo meeting nazionale e poi salendo sul podio in questo importante test internazionale. Domenico, possiamo dire che sei contento? Sì, possiamo dire che sono contento anche perché il lituano che ha vinto era un ottimo test perché lui è settimo ai mondiali, sono stato attaccato alla prima parte di gara oggi, volevo vedere un po' quanto riuscivo a star lì vicino, sono abbastanza contento. Poi la seconda parte di gara ovviamente lui con più esperienza e più adattamento in singolo è riuscito a farla molto meglio di me, mi ha dato un po' di secondi ma io non sono proprio singolista. Ecco, quindi queste sono le prime gare serie che faccio e sono contento perché sono riuscito a comportarmi bene, la barca ha risposto bene, il mio allenatore Franco Cattani è stato contento, quindi mi ha visto propositivo Garibaldino dall'inizio e quindi va bene così. Garibaldino, bella questa definizione di Domenico Montrone che però a differenza del primo meeting nazionale non ha potuto contare sul grandioso supporto della tifoseria barese, ma che è successo? Eh, purtroppo non sono potuti essere presenti qui i ragazzi di Bari perché oggi ci sta svolgendo anche una regionale in Puglia, quindi sono lì che gareggiano anche loro, un saluto a tutti quanti i miei amici di Bari, li ringrazio ancora per il tipo dell'altra volta, sicuramente fa piacere avere tanti amici che ti seguono, sia da casa che anche a Sabaudia con le Fiamme Gialle, abbiamo un bel gruppo di lavoro con Alessio, Romano, siamo un bel gruppo noi, noi in Fiamme Gialle, quindi bene. Un bel gruppo e un bel complimenti ancora a Domenico Montrone. Grazie. Grazie.